e siamo in diretta buongiorno ragazze buongiorno amiche buongiorno a tutte buongiorno a facebook e buongiorno a tik tok oggi c'è tonnellina antonellina aveva voglia di vedervi aveva voglia di chiacchierare un po con voi aveva voglia di portarvi i capi che abbiamo preparato e prodotto in questo primo attacco stagione e ho detto oggi vado io e io sono qui sono piccole due le mie due befanine ciao a tutte le mie due befanine si loro sono come sempre fantastiche quando arrivo c'è sempre da scherzare da ridere un po prima della diretta infatti siamo un attimo in ritardo ma proprio poco poco come mai e chissà come mai e perché noi tre siamo così e che ci volete fa prendeteci così come siamo ma come state innanzitutto come state tutte quante eh vi mando un bacio e ringrazio a chi mi scrive per i saluti mi scrivere per mi scrive per chiedere come sto è sempre un piacere sentirvi e fare due chiacchiere con voi e fa veramente piacere avere questo rapporto anche di amicizia di come dire il sentirsi semplicemente perché ci si vuole bene e questo direi che va oltre ogni cosa quindi grazie oggi non sono sola ho una sorpresa per voi che è la nostra monique io la chiamo monique arriva la terza pefana guardate ciao a tutte guardate che meraviglia oggi monique eh grazie come se piace vero tantissimo infatti lei quando si è vista che ha indossato questa giacchettina con la gonna eccetera ha detto sì sì è proprio mio è la mia è proprio mio e qui cosa abbiamo vuoi fare tu no no lascio fare all'esperta sapete che a me piace lasciare spazio agli altri quindi ho detto magari la monique si lancia no no prima di potersi una qualche sparnoscata ma beh ci sta siamo in diretta le cose accadono si dicono a volte posso solo sincerare della comodità dei capi in che si portano quindi poi per il resto tessuti lascio fare a te ok perfetto allora monica indossa la gonna in bengalina che ha indossato la gabri venerdì la indossava beige con una magliettina beige in questo caso è nera guardate la sensualità del tulle sotto e stiamo parlando mi devo appoggiare prima di andare a cadermi e se vuoi far la prova c'è il martello di l'aria un tulle di viscosa molto morbido molto elasticizzato che parecchi di voi già conoscono quindi sanno che vanno sul sicuro quando si tratta di tulle dalla mano setosa giusto hai provato è toccato assolutamente bene e soprattutto indossato esatto perché poi sotto è tutta foderata quindi a contatto con la pelle c'è proprio solo il tulle attenzione non andiamo non oltre non si sa mai ecco brava bravissima non diamo solo abbiamo la seconda gonna in bengalina quindi pensate un attimino questa gonna come è stata lavorata seconda gonna in bengalina che è sempre molto confortevole perché è dotata di elastico in vita il famoso elastico che mettiamo sempre in vita perché perché noi si seguiamo lo stile si seguiamo le nostre otto taglie perché la nostra produzione lo sapete bene va dalla 40 alla 54 ma indipendentemente da quello noi cerchiamo il comfort insieme allo stile e per avere il comfort insieme a questi modelli favolosi abbiamo bisogno di elastico in vita in questo caso abbiamo messo un piccolo dettaglio un accessorio la catenella doppia per chi volesse eventualmente toglierla sappiate che si apre l'anellino ed è subito tolta questa e non è un problema l'abbiamo messa noi per dare un po di luce per dare il dettaglio di tendenza di questa stagione è doppiata al suo passantino ma una volta aperta la sfilate eventualmente e la togliete ma vi consiglio non fatelo perché proprio la tendenza lo potete fare più avanti se magari vi stanca ma è proprio bella così com'è nata ai passantini eventualmente per una cinturetta se la volete indossare mentre dall'altra parte monica abbiamo questo tascone che non è una tasca finta ma è una tasca vera e anche molto comoda prova hai visto che robe vedi si scoprono sempre cose nuove hai visto che robe e questa è veramente una gonna molto pratica ma attenzione noi presentiamo sempre i capi con le calzature col tacco un po' eleganti ma sappiate che questa gonna portata con l'anfibio è qualcosa di fantastico con la sneaker e giudino di pelle diventa ancora più grintosa quindi tutto questo lo potete fare voi decidendo come abbinarla in questo caso noi abbiamo scelto anche una blusa tinta su tinta cioè il nero abbiamo fatto il total black sotto dando vita a questo completo con una cinturina che ha scelto monique e sopra la nostra giacca animalier che attenzione domani arriva il tessuto e per cui andiamo a ritagliare tutte le taglie sempre dalla 40 alla 54 è una giacca con ottime ottima vestibilità confermate ragazze voi che prendete le varie misure eccetera sapete come funziona cioè qui si lavora con il metro in mano dando la misura del giro seno giro vita e giro fianchi da lì loro vi lavorano le vostre richieste e vi mandano la taglia giusta ok guardate lei come veste bene e direi che io abbondo sul davanti ma è di una comodità esatto prezzi 119 la giacca animalieri 59 la blusa con il collo pellicano ma sappiate che la blusa ha anche il collettino camicia proprio è un modellino nuovo che abbiamo lavorato e che a queste due particolarità nello scollo e nel collo quindi bella comoda perché comunque non vi stringe attorno si respira bene perché è fastidiosa e bella comoda anche di manica perché tutto arricciate quindi vi dà una vestibilità veramente molto 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 comoda questa questa blusa guardate lei con questo sandalo come sta bene e anche portata vediamo perché non avevo le scarpe accessibili a tutti sono arrivata con le scarpe ginnastiche perché indossavo un jeans e non avevo la scarpa col tacco e ma non è un problema perché di scarpe ce ne sono e non in vendita naturalmente sono quelle di gabrie che giustamente lei ha preso un attimo in prestito con questo con questo outfit dove andate dappertutto dove volete dal dall'ufficio piuttosto che la sera a un aperitivo una cena con l'amica un incontro di qualsiasi tipo ma l'importante che vi sentirete stilose sì ma super comode come con tutti i nostri capi vi ricordiamo che siamo da gabrie s a villa carcina in sto ragazzo siamo qui a villa carcina e dopo le ragazze poi vi daranno tutte le informazioni del caso riguardo ai social eccetera eccetera sapete che per qualsiasi ordine dovete scrivere su quei numeri di whatsapp assolutamente scrivete lì e non sotto la diretta perché da lì che loro poi troveranno i vostri messaggi e inizieranno a rispondervi e a lavorare su quello che avete richiesto molto bello anche questo portatelefono un portatutto 20 euro ha fatto una versione invernale si è molto bello questo molto morbido è il contatto è proprio se vuoi venire anche un pochettino più avanti così facciamo vedere bene tutto anche il tuo outfit perché il nero si vede esattamente poco poi gli appeso cosa c'è porta chiavi giusto per rimanere sul tema animali e che questo è a otto euro è anche molto simpatica devo dire allora c'è carmen che scrive evviva che bello vedere la bellezza assoluta cate saluta per me mi saluta carmen grazie grazie sempre gentilissima sempre carinissima nel ricordarci mandarsi saluti tutte quante voi perché siete veramente delle persone fantastiche vi ho conosciute man mano un po per volta prima con i nomi poi con i cartellini e tutto quanto perché sapete come funziona da noi per aver avuto poi il piacere di conoscere alcuni di voi direttamente poi abbiamo stefania che dice dita monica di smettere di perdere chili perché li sto trovando tutti io no ne ho ancora un paio da perdere però vabbè dai se li trovi lasciali lì cristiana cristiana vuol sapere che taglia indossi 48 di tutto di tutto esatto esatto la 48 di tutto però la giacca è un po morbidina perché lei ha parecchio seno però è dimagrita veramente bene più sottile sotto e quindi ci starebbe sicuramente anche in una 46 perché è una giacca che veste divinamente quindi non avrebbe problemi lei è super felice perché indossa la taglia in meno esatto esattamente come tutte noi perché quando andiamo poi metterci una taglia in meno e vai evviva quando mi ha misurato l'altro giorno dopo vabbè io le giacche mi piace portarle aperte non le domani quindi anche se una 46 come me come uguale sì 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 abbiamo antonietta che scrive il completo prugna che indossa la signora bionda quanto costa allora questo completo in ecopelle all'interno sì grazie all'interno questa mano morbida e tipo un dainetto una nappa vediamo se riesco a farvela vedere ok quindi è sfoderata ma morbidissima è proprio un ecopelle fantastica che abbiamo già utilizzato anche in stagione i precedenti perché un fornitore che abbiamo da tempo quindi conosciamo la mano di questa nappa è 59 euro la gonna a tubino è una lunghetta alla zip l'elastico e il bottoncino per infilarla è molto molto comoda guardate che io indosso la 42 ma mi sta anche fin troppo comoda sarebbe da portare un attimino più asciutta però ho voluto farla vedere anche in versione un po più comoda e non sempre troppo attillata l'ho voluto proprio per voi perché su alcune richieste magari chiedete io preferisco questo articolo portato più comodo quindi non ho messo la taglia in meno ho messo la mia taglia anche se mi sta morbidina idem la giacca o il 42 di tutto in questo in questo outfit e 69 la camicia che in questo caso è quella con le taschine e con tutti i bottoncini incisi 69 il tessuto è in manupesca che ormai conoscete che si lava e non si stira comodissimo anche quello si sbatte se non ti devo dire una cosa interrompo sui prezzi ma li dico ho paura ho provato a mettere nell'asciugatrice i pantaloni ho detto oddio adesso mi parte il pantalone non è stato così non ho fatto la centrifuga di ora però ho fatto mezz'ora mi pare anche io la centrifuga della lavatrice la lascio bassa 800 quindi la fa poco però io metto tutto in asciugatrice e mi è uscito perfetto quindi io se l'ha fatto anche lei sperimento però la giacca no io ho provato solo il pantalone quindi dico questa cosa con tranquillità perché ho proprio sperimentato però su poco ecco sul tempo di mezz'ora quindi 59 69 e 109 la giacca ok indosso la taglia 42 se volete vedere la lunghezza comunque metà colpaccio su di me che sono 1 e 70 ma la particolarità di questa conna adesso la prendo dal carrello perché ci sono tre colori il nero il viola che sto indossando e il verde volevo farvi vedere lo spacco che è molto alto ma per un semplice fatto ragazze perché chi volesse accorciarla non ha il problema di dover aprire e rifare questo tipo di cucitura vedete come è finito lo spacco è finito molto bene di modo che se qualcuno la volesse portare al ginocchio non fa altro che accorciarla con una semplice macchina piana loro subito cucito e non vi da problemi per cui il lavoro è molto semplice rispetto a dover aprire uno spacco e rifare tutto questo è il motivo per cui facciamo gli spacchi anche molto alto e comunque se ti giri e lo facciamo vedere non è uno spacco no fuori di testa ecco così almeno lo vedo è fuori di gamba è giusto ci vuole così è giusto per far vedere le cosce camminate proprio tutte così se lo spacco non è bello aperto non riuscite a fare il passo ok quindi come ogni cosa studiata è pensata sia per la lunghezza che comunque la finitura dello spacco tornando a noi con 39 euro volendo ci abbiniamo anche questa borsa che in questo caso è proprio in tono è tracuntata a forma di rombo ma è molto molto bella molto particolare molto comoda ma anche molto facile perché questi tessuti li lavate con una spugnetta per cui io trovo la la borsa quasi anche giornaliera molto pratica che si usa per qualsiasi cosa quanti colori 5 5 giusto sì una viola nera verde oro e argento perfetto assoluto ma sì ricordiamo che le scarpe non sono in vendita che adesso chiedono il tuo stivaletto ricordiamo quanti anni a questo stivaletto non sono a livello della gabri che magari a scappi di vent'anni però è datato oppure questo ma era molto carino è una vita che non lo metto perché l'anno scorso col problema piede poi i tacchi non più portati e l'ho rimesso oggi io qualche messaggino allora rita buon pomeriggio meravigliose donne susanna sempre diverse innovative queste splendide donne un grande bacio per la vostra disponibilità e professionalità grazie grazie da parte mia da parte loro da parte di tutti noi che alla fine siamo un team lavoriamo tutti insieme e si fa il possibile per farvi veramente contente e cerchiamo in ogni modo di accontentarvi e qua apri una parentesi e poi facciamo entrare la nostra monique perché è fantastica e riguardo alla gonna in tulle che ha indossato prima monica abbiamo due colori il nero e il beige abbiamo avevamo una parola grossa avevamo ci sono due taglie abbiamo una parola grossa in magazzino ci sono sono assortite perché non abbiamo fatto altri colori e rispondo se non sbaglio alla cristiana era lei che aveva fatto questa domanda sì sì la cristiana primo la bengalina è bordeaux fino il primi di ottobre non arriva la seconda partita di bengalina che abbiamo ordinato noi abbiamo ordinato la prima partita grossa luglio la seconda è stata consegnata il primo settembre è già finita quindi l'abbiamo riordinata sì ma arriverà un po avanti avevamo pensato già pensato di avvinargli tulle nero perché il nostro fornitore non ha grandi colori di questo tulle è stupendo e favoloso ma è ancora limitato nei colori mi ha promesso ci stanno lavorando che per questa prima mira li faranno quindi sarà tutta una sorpresa per ora ce la dobbiamo tenere così vero che se ci fosse la bengalina avremmo abbinato punto nero ma non abbiamo la bengalina siamo al momento fermi per quello ma della nera e della beige abbiamo assortimento quindi simo dai tranquilla ce l'abbiamo ci abbiamo tutto ci abbiamo finisco questo che vi faccio appunto vedere anche il verde che fantastico lo potete abbinare anche se non con la camicia con una magliettina stampata fatto a polo e risulta un pochino più sportivo portatelo anche questo tranquillamente senza attacco con l'anfibio con quello che volete perché uno stivale che ce ne sono di meravigliosi ne ho visti io per la calzatura in pazzisco e questa magliettina che costa solo 69 euro perché sapete che la stampa comunque incide un attimo di più questo è un jersey della mano calda un jersey per l'autunno diverso da quello che abbiamo utilizzato ovviamente in estate sapete che ad ogni stagione corrispondono grammature diverse ok questa è proprio la mano un pochino più caldina molto molto bello confortevole e con lo stesso jersey abbiamo lavorato sempre su questa su questa polo su questa maglia camicia con un'altra fantasia vediamo se la nostra monica arriva e guardatela in questo meraviglioso completo nel colore bel ricciano ci vedevamo stai bene molto bene lei fantastica poi è sempre solo che gnocca in quel ho potuto indossare una 46 anche di pantalone perché mi va leggermente esatto ha voluto 48 però lei è calata quindi sotto ci sta nel 46 forza non è emozionato così ricomponiamoci no 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 c'è parte dei scherzo che è molto quindi indossi 46 per i pantaloni che sono nel tessuto crepe di viscosa la viscosa è a contatto con la pelle nella parte interna la parte più porosa e all'esterno il pantalone costa 59 euro sempre con l'elastico in vita e sempre col dettaglio della catina perché questo pacchetto è nato col dettaglio catina ok apprezziamo il tuo impegno grazie e poi abbiamo la sua meravigliosa giacca che vi è piaciuta tantissimo perché veramente avete fatto un sacco di complimenti con una leggera coda con questa catena che non è in plastica ma è in metallo e vedrete dal vivo quando vi arriverà a casa quanto bella è e questo fornitore sinceramente ragazzi gli ho fatto il filo in tutti i sensi perché mi piaceva questa catena ed era difficile da trovare ma ce l'abbiamo fatta per voi ecco perché così si fa esatto quando si vuole una cosa bisogna ottenerla esattamente e poi con tutti i bottoni dorati con questa come si dice aspetta vediamo se riesce si no all'interno all'interno la posizione dei bottoni è strategica perché comunque vi slancia pure quella in che senso vedete che sono messi non dritti ma adesso dobbiamo sistemarla e magari ti dire un attimino ecco secondo me in questa taglia magari un paio di centimetri leggermente da spostare soprattutto con l'interno però vedete che è molto bella perché ha questo slancio questa posizione dei bottoni che va comunque a slanciarvi bellissima fantastica a 119 euro 109 euro anche questa giusto? si 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 bella avete qualche cerimonia volete andare da qualche parte avete una serata vi hanno invitato eccetera noi partiamo sempre a settembre con i capi un po più eleganti perché sappiamo che ci sono le cerimonie e quindi se li chiedono anche perché dei pacchetti sulle taglie morbidose elegantini in giro si fa veramente fatica a trovarli quindi noi puntiamo tanto all'inizio della stagione con questa tipologia di capi ma quelli sportivi arriveranno quindi state tranquille e serene seguiteci che la roba arriva tutte le settimane sapete che la roba arriva ok mi raccomando ho un po' di messaggini se si accavallano allora Marisa buon pomeriggio ragazze bravissima la signora Antonella a spiegare i modelli e i tessuti grazie poi abbiamo poi abbiamo Gabriella il boss buongiorno amori miei poi prima ho letto che ti consigliava anche di non consigliare l'asciugatrice che non si sa mai ti dice l'ho provata Gabri l'ho provata ha ceduto al fascino poi abbiamo Simona buongiorno splendide ragazze ma il completo in ecopelle ha lo stesso colore e tessuto dello spolvero della stagione scorsa? sì perché è lo stesso fornitore sì perfetto al 100% sì scolriamo in giù quindi vai sicura nel senso che se vuoi prendere la gonna vuoi prendere la giacca e sopra gli metti lo spolverino più completo di così direi che è Antonietta chiede che taglie ci sono sia per la giacca che per la gonna dalla 40 alla 54 tutto quanto come sempre facciamo perché tagliamo le 8 taglie poi abbiamo se ci sono degli articoli ragazzi dove mancano le taglie perché Maria è finito il tessuto prima di arrivare all'ottava taglia lo segnaliamo loro quindi viene detto in diretta se mancano le ultime due taglie o una taglia quindi tranquille qua ci sono Patrizia scrive buongiorno ma che bellissima so che non si dice ma se non lo scrivo non rende l'idea grazie grazie un sacco di di grazie a tutti e voi sempre il boss ciao super Antonella ti voglio bene ma grazie boss vai fare altro gentilmente cioè non lo so io poi abbiamo Stefania i vostri tessuti sono talmente buoni che resistono a tutto e lo dico per esperienza personale io che con la lavatrice faccio di quegli strafalcioni ma i vostri capi sono sempre perfetti ovviamente voi ascoltate i consigli e dico sempre abbiate un attimo di testa perché qualsiasi capo che ha l'elastan deve essere lavato con cura cioè temperature basse centrifuga bassa poco detersivo e tutto quello che gli va dietro ok non riempite troppo la lavatrice brava cioè tutti i piccoli accorgimenti che vi danno la possibilità di lavare tutto ma dovete stare attente perché se vuoi la centrifuga resta a mille due perché prima avete fatto le lezzuola questi capi vanno a farsi benedire quindi e vanno bene al chihuahua chihuahua gabriese abbiamo Gloria buongiorno bellissima Antonella apprezzo tutta la vostra produzione e fedele a gabriese ottimo questa cosa è importantissima ci piace anche perché poi quando ti trovi bene con delle persone non le lasci più assolutamente poi abbiamo Cristiana mi fa qualcosa a Monica è qui che è all'incirca 4 anni che dice che vuole comprarsi la macchina non ci riesce niente Cristiana chiede se potete fare sul tulle nero una fantasia per fare le maglie in fantasia ci potrebbero fare ci potrebbero fare perché è un'azienda che mi stampa il tulle me l'ha già fatto e voi l'avete provato sperimentato perché c'era una gonna a pannelli se ti ricordate ragazze era un tigrato col verde lime ed era un'azienda nuova e aveva lavorato molto bene quindi perché no ci penseremo poi abbiamo anche Carmen che dice io vorrei fare una richiesta per Antonella mi piacerebbe una camicia lunga solo in tulle da mettere sopra ad altro che dici sarà possibile? insomma sto tulle piace è morbido e caldo ragazze ovviamente noi abbiamo posso leggere anche io? non lo so no no c'è ancora Isabella Monica sei stupenda stai benissimo complimenti per la silhouette brava grazie mille vai per questa volta puoi leggere anche il seguito visto che ne ha scritto due esatto Antone complimenti per la nuova collezione tutto fotonico oh grazie fotonico addirittura wow Monica fotonico siamo come fotovoltaici la Stefi chiede se la tua gonna è un pochino elastica molto elastica molto elastica Stefi cioè devo avvicinarmi? io ho la 42 un cocane forse sul fondo riesco a farlo vedere bene? si 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 vede oh stiamo parlando di nappa di ecopelle non di bengalina è elastica ma non tanto quanto la bengalina attenzione però per essere un'ecopelle è elastica tanto è vero che io sono una 42 piena quindi ho indossato la 42 però se vedete sul fianco mi sta un attimino grande la 40 mi sarebbe stata meglio ma ho messo questa per farvi vedere che comunque portatevi anche un po' più comodi i capi sono belli vestono sempre bene comunque assolutamente vero? Maya chiede pantalone simile in pelle li avete? al momento no tra l'altro questa ecopelle è proprio finita perché il fornitore non ne aveva più però la stagione è lunga ragazze possiamo farvi tutto man mano che finisco un articolo ne avvio un altro e via dicendo adesso stiamo lavorando sul pacchetto felpe per cui con tutto il tempo che ci vorrà ovviamente perché guardate che noi passiamo dalla scelta del tessuto dei colori del modello e via via e poi lo dobbiamo provare mettere in produzione e quant'altro quindi se io oggi dico stiamo lavorando sul pacchetto felpe non arriva la settimana prossima sappiatelo e sapete i tempi un attimino di produzione come sono perché ci seguite da tempo e ormai li avete compresi per bene hai capito Monique? la felpa tua arriverà con tutto quello che c'è calmati e vabbè ma non ti sento forniva aspettate ma qua ho già ho già dato qui tutto quanto hai preso eh sì ho già uno davvero? sì c'è già è senza macchina? è senza macchina? cosa che non capisci? non mi manca con la macchina vecchia che desperation non mi manca questo eccoci bene allora adesso vai perché è arrivato che tu eri già stata qui non c'è Mirko in diretta vero? io non lo vedo da qua poi non lo so è il tuo marito sì 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 ti controlla? ti controlla? ha chiamato sì voglia e tu non darle più niente no ma ogni volta mi ha chiesto con gli otto vado su dalla Simona non venire a casa mi raccomando dopo sennò quando metto su qualcosa ma ho talmente tanti capi che magari presi anche l'anno scorso e non sono riuscita a mettere che quando li metto quest'anno mi dice è un po' che ce l'avevi in effetti sì è vero ma non ho ancora avuto tempo di metterli ragazzi è la frase che usiamo un po' tutte però eh a proposito di capi il mio capo scrive dite la verità vi manco no è troppo presto troppo presto esatto è passato solo il sabato e la domenica siamo già abituate a non vederti i due tombolini qua chiedicelo a venerdì dai ti ha zappa sui piedi a me sì a tutte noi anche loro e dice anche Monica cambia ti ti dice vai pure che vado avanti col carrello se qua si comanda anche a distanza lanciagli una scarpa è la sua è tanto punto dimmi ho Gabriella che mi chiede perché hai detto delle felpe se farete tute ginniche sono tute ginniche quindi avrà la felpa il pantalone e la tuta sotto ok sì e in teoria c'è in prova va anche un abito in felpa ok e Valentina invece mi chiede come si fa per acquistare per acquistare dovete scrivere a scrivere questi numeri su whatsapp le ragazze vi risponderanno ricordatevi di dare le vostre misure ovviamente giro sena giro vito giro fianchi perché loro pur noi avendo otto tagli a disposizione loro lavorano con le vostre dimisure quindi decidono loro che tagli a mandarvi voi dite io la 46 ma si date le misure che poi quelle misure per quel capo non corrispondono perché noi lavoriamo con i tessuti stretch quindi potrebbe anche essere che serve la taglia in meno questo lo decidono loro con le vostre con i vostri centimetri che voi passate su quei numeri lì ok quindi ti aspettiamo Valentina assolutamente sì Valentina posso proseguire perché sì perché ce la mi danno l'indicazione da qua perché non hai ancora fatto vedere niente quindi vai tranquilla ma sì ma noi ce la facciamo ma sì sono 2,35 pantalone zampetta verde quelle taschine anteriori sempre in bengalina molto morbida viscosa ovviamente anche questa a 59 euro che potete fare ben completo con la sua giacca 8 tagli dalla 40 alla 54 per cui ce n'è per tutti ragazzi anche per le nostre morbidose che sono fantastici che portano questi capi in maniera meravigliosa e questa giacca ha tre bottoni ha la particolarità delle alette e di questo ha l'amaro quindi la rende un po' sportiva non è la solita giacca in questo caso l'ho abbinata con la blusa che aveva indossato prima Monica nel bianco qui c'è anche la fantasia oltre che al nero anzi due fantasie che poi vediamo man mano ed è a 59 euro questa che però è tinta unita la fantasia sapete che costa sempre 10 euro in più vi ho abbinato la collana il fiore la collana 20 euro il fiore è a 10 10 ok perfetto ed è un bellissimo completo verde verde bottiglia che andate ad illuminare con una bellissima blusa bianca sempre mano pesca sempre tessuti che non stirate ok volendo guardate anche questo sopra lo potete abbinare il gilet in questo pelo fantastico pelo di struzzo a 79 euro è un gilet molto comodo sfoderato in taglia unica quindi se vi piace se chiedete alle ragazze date anche qui le vostre misure che loro vi sapranno consigliare perfettamente dal verde passiamo al beige sempre un pantalone zampetta perché è super richiesta è una delle tendenze di questa stagione in questo color sabbia molto dai toni un attimino più freddi perché durante l'autunno comunque cambiano anche le gradazioni le tonalità eccetera molto bello portato con che cosa con questa blusa nel jersey autunnale stampato quindi una blusettina molto particolare guardate questo scollo quando l'avete indossata vedete è molto molto particolare bella sensuale quel tanto che basta e è stata lavorata in questo caso insieme al jersey in tinta unita che dà quello stacco proprio frontale e nella parte dove vogliamo rimanere e sembrare più asciutte il nero dona questa particolarità tagliata svasata attenzione allo spacchetto che anche questo è una particolarità in più sta benissimo col pantalone questa blusa proprio bene 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 in questo caso se volete potete abbinare il gilet marrone vedete che meraviglia tutto il completo forse perché quest'anno il marrone lo adoro mi sono proprio innamorata e non parliamo dei cappotti che arriveranno più avanti e vuoi svelare troppo lasciamo stare già chiedevano già chiedevano eh che attendevano non volete il gilet in pelliccia volete abbinargli questo a 139 euro giacchino Chanel come tessuto lavorato leggermente morbido perché ovviamente puntiamo sempre al comfort piaciuto non tantissimo di più foderato e ha la particolarità di questo collo tutto impunturato leggermente stondato che è un po' anche la linea dei colli nuovi bellissimo portato anche così e soprattutto con la temperatura di questa settimana direi che è veramente fantastico e giusto mettiamo un colore mettiamo il bordeaux che non chiamiamo con il nome dei vini perché sennò cominciamo a far casino ok ancora uno zampetta molto particolare perché veramente sul fondo questo pantalone l'abbiamo tenuto 3 cm più lungo rispetto agli altri anni ma ha donato tantissimo proprio alla figura di questo pantalone in questo caso abbinato con la blusa tutta sfumata tono su tono riguardo alla sfumatura insieme al pantalone questa l'abbiamo proprio fatta fare noi perché 9 stappe su 10 si può dire che le decidiamo noi le disegniamo noi decidiamo i colori e tutto quanto perché abbiamo un fornitore che ci segue per questo quindi questa è la blusa che indossava la nostra monica che scivola tanto è bello il tessuto scivola tanto è bello è impalpabile tanto è bello e non lo stirate è fantastica e qui che gioca la sfumatura quando vedete le sfumature o comunque queste stampe particolari sappiate che sono tutte esclusive perché vengono posizionate in modo tale che ogni blusa è a sé una sfumatura bassa l'altra ce l'ha alta l'altra ce l'ha al collo e via dicendo con la sua giacca che è sempre quella della linea sportiva in bengalina e l'abbiamo in diversi colori il nero il beige il bordeaux il verde il ah ragazze è arrivato il blu è arrivato il blu stamattina ve lo porto mercoledì il blu e il blu il blu bengalina sì sì assolutamente quindi blu notte e abbiamo riassortito a chi interessa e chi era in lista d'attesa ovviamente spediranno se non domani quando appena riescono è arrivato tutto il pacchettino bengalina jeans blu e nero riassortimento ok adesso arriva la nostra Monique con un altro completo e anche questo si può dire è di prima ma nel nero abbiamo voluto proporlo perché prima avevo su però i pantaloni a sigaretta certamente perché in questo pacchetto abbiamo tagliato sia il sigaretta che il palazzo perché sapete che sotto una giacca di solito facciamo due o tre o tre capi di tipologia diversa ma volutamente perché una ma il palazzo non ama la gamba strettina l'altra invece ama solo la gamba strettina noi in qualche modo cerchiamo di accontentarvi tutte ovviamente dove si può perché le linee sono quelle campetta palazzo sigaretta e via dicendo però sono quelle ed è fantastica anche portata nel nero i bottoni in questo caso risaltano ancora di più sapete che se ci fosse la possibilità eventualmente di chiedere il bottone diverso se li abbiamo ve li diamo volentieri perché so che c'è una cliente che non ama il bottone oro ma non è un problema basta chiedere e anche questo ripetiamo il prezzo 109 la giacca 69 la polo che questa è la stampa barocco molto bella molto bella mi piace in modo particolare anche la tigrata che poi vedremo con gli spacchetti e anche più lunghe dietro ragazze guardate che vi copre vi copre molto bene perché l'abbiamo lasciato un po' lunghetta e con questo pantalone devo dirti che ci sia proprio di incanto poi si può tirare dentro devo dire che questa questa maglia mi piace molto perché ha l'eleganza della camicia quanto al collo ma la comodità di una maglietta sono d'accordo e di una morbidezza sono d'accordo per questo Jesse mi è piaciuto subito appena l'ho visto la mano è proprio fantastica perché non è troppo pesante ma quella mano caldina che serve per l'autunno è proprio cambiato rispetto all'altro e con questo con questo outfit dove andate? dappertutto cambiategli il tacco non mettete il tacco al mattino ma uscite così che andate dappertutto guarda c'è lì già la borsa nera in abbinamento e guardate che bella questa è in tessuto con dei piccoli fili di lurex molto molto carino tutta sfrangiata con la sua ceniera avrà sicuramente anche la tracolla sì c'è anche la tracolla 8600 tasche dentro beh quelle ci vogliono perché noi abbiamo mille cose le chiavi il telefono i fazzoletti e poi puntualmente non si trova mai niente non si trova mai niente proprio chiavi telefono basta chiuso però di giorno ovviamente ci vuole una tracolla quella se la vogliono c'è anche bordo tra l'altro questa si abbina benissimo questi giacchetti sì perché hanno hanno il filo lurex quindi la richiama la richiama assolutamente e volendo ci potete abbinare guardate se fate il completo di prima ci posizionate la borsa nera abbiamo comunque l'Apollo che va a richiamare anche il nero e quindi ci sta proprio bene mancano solo le scarpe esatto questa la lascio a te se vai a fare un altro cambio e io proseguo perché abbiamo rallentato prima e adesso abbiamo recuperato passiamo un altro punto di ritro vi stiamo facendo vedere tutti i colori della bengadina perché? perché stamattina è arrivato il riassortimento siccome visto che le avete chieste che comunque le ragazze hanno tutti gli appunti di chi ha chiesto colori taglia eccetera ve le abbiamo riproposte di modo che le andate a rivedere tranquillamente in questo caso ho abbinato questa stola che è meravigliosa la trovo proprio particolare anche vedete sempre con i toni neutri lavorati col nero e questo oro che va ad illuminarla nera con che cosa con il suo pantalone in questo caso sempre a zampetta con le taschine anteriori 59 il pantalone e 99 la giacca ok potete fare completo con la magliettina in tulle quella neutra che è sempre molto carina sapete vi abbiamo spiegato molto bene che si possono utilizzare sia la canottina sotto che solo la magliettina in tulle come sotto giacca come vi piace di più una magari ha il body sotto e non vuole mettere il doppione della magliettina e quindi fa body e magliettina in tulle oppure qualcun altro preferisce solo quella sotto oppure come me doppia addirittura e l'alternativa volendo fare un total black è questa camicia che è uguale a quella che indosso io è il tessuto nostro il silken in manopesca favoloso sempre da non stirare quindi uno dei tessuti magici ok qui abbiamo preparato un jeans io non so ragazze le taglie di questi come vestono dovrebbero ditelo voi sono dalla XS alla L alla L ok perché era fino XL ma sono terminate dal fornitore abbiamo chiamato stamattina ecco comunque se vi scriveranno certo direte tutto in questo caso l'abbiamo abbinata sempre con la nostra blusa col collo pellicano che fa parte del pacchetto catene cioè quello era il pacchetto romantico perché abbiamo tutti i cuori e a proposito di cuori ricordatevi che dove trovate questo cartoncino col cuore siamo noi del Made in Brescia lo sapete vero che batte e batte anche molto forte per voi per cui abbiamo fatto il jeans questa blusa ma volendo potete abbinare qualsiasi altra cosa vi chiedete magari preferite la camicia bianca dite ho visto il jeans ma vorrei un'altra camicia da potergli abbinare chiedete e loro vi aiutano sicuramente in questa cosa e qui abbiamo abbinato la giacca invece nel blu sempre quella in crepe con l'accessorio catena dietro fantastica io l'ho presa proprio blu ho un jeans a zampa proprio zampa zampa bello esasperato e portato con uno stivaletto sotto un attimo di tacco è fantastica molto molto bella qui chiedete perché poi ci sono anche gli abiti smanicati sotto questo pacchetto che poi ne vediamo volendo potete anche indossare questa sopra se proprio siete freddolose potete abbinare un secondo capospalla ma questo ve l'ho preparato con l'abito in bengalina smanicato perché anche questo è ritornato è arrivato riassortimento per cui chi è rimasto senza non fa altro che scrivere su whatsapp e richiedere il suo abitino abbinato in questo caso con un giacchino chanel tessuto chanel anell'azzurro e panna che lo trovo fantastico vieni Monica abbiamo Cristiana che chiede se dopo Monica può indossare il completo lì sul manichino credo ce l'hai sul carrello no se no lì c'hai un colore lì tipo piacere ok questo è il pantalone sigaretta 59 euro stiamo parlando di bengalina di viscosa attenzione elastico in vita come sempre la giacca sportiva successo erano i pettorali quelli esatto no erano gli addominali è vero sì non ci ho pensato era non piaciuto giro al palco il contrario però vedete che carina che è anche questa questa magliettina è fantastico perché lei è proprio un modellino pulito perché alla fine ha solo due bottoncini qua al suo collettino lo scollo a voi tutto quanto sempre bella perché è lunghettina dietro questa stampa in modo particolare va ad illuminare tutti i colori tutti i capi che avete visto la potete abbinare tranquillamente e avete una cosa molto pratica sotto la giacca quindi non vi sentite assolutamente costringere da nessuna parte a dover limitare i movimenti per cui quello che dicevo l'eleganza della camicia ma la comunità della maglia assolutamente assolutamente vedete che abbiamo fatto un po' di camicia abbiamo fatto un po' di bluse abbiamo fatto un po' di polo cerchiamo comunque di inserire articoli diversi e sempre ne arriveranno ciao molto molto bello ciao Doni abbiamo 69 la maglia 99 la giacca venga Linda stiamo parlando e 59 il pantalone perché invece se fosse collegato adesso e sta guardando con due occhioni il mio completo 59 la gonna 109 la giacca 69 la camicia ok già che ci sei ricordiamo anche la collana che non l'hai ancora fatta vedere che è 20 euro 25 25 si vede? non tanto vieni da me vieni da me vengo vicino si vede? adesso si bella eh e poi sta molto bene con questo compito proprio il suo colore come del resto la borsa che avevo all'inizio ha 39 euro Monica il boss dice che ti adotterebbe ti adotterebbe grazie la capisco il boss la capisco però perché lei non costa un orsacchiotto un abbigliamento secondo me è il contrario non costa tanto in cibo secondo me visto che è la dieta ma l'abbigliamento ti vanno in bancarotta ma va bene non li spendi di qui li spendi di là madonna santa ma poi se lei mi adotta quindi diventa la mia mamma non serve che li prenda non mi regali vero mamma ma dalla Simo cosa ti fa? ciao ma io soddisfo di più di te scusa e su questo l'abbigliamento sicuramente ma non solo su quello non di e non solo perché io la coccolerei tutta la caprica tutta qua per avere per avere se vuoi prenderne uno da indossare si va bene sono lì appesi se ti piace il colore guarda che glielo ho fatto vedere prima va bene lo stesso si si scegli la tua taglia così lo vedono indossato giusto io comunque l'avevo preparato per voi nel look chiedono che colori la collana al momento solo quella quella che indossi tu ho visto solo questa esatto si si ok mi confermi si per il momento si poi ragazze su whatsapp provate a chiedere esatto che non si sa mai non si sa mai e anche loro chiedono certo io ho messo la collana per dare luce a questo concreto non ne ha bisogno perché è una favola e non so che altro dire tanto bello lo vedete anche qui indossato guardate e voilà venduta venduta assolutamente si e ricordiamo di questo completo che è preferibile venderlo a completo quindi in maglia e pantaloni molto preferibile perché comunque la maglia ha uno spacco che è a dir poco inguinale e quindi comunque deve aver sotto il pantalone come sottolineava il boss prima che chiedevano della giacca leopardata giustamente se abbiamo fatto il sotto in quel tessuto particolare la stampa è perché il suo ci sta esatto assolutamente comunque questo spacco arriva più o meno a metà pancia quindi ha bisogno del suo pantalone sotto capite che non potete andare in giro cioè non è un abito con un belico di fuori a meno che lo spezzate sotto con qualcos'altro ma una volta fatto il completo ve lo portate a casa se avete desiderio di indossarlo con qualcos'altro sotto lo fate con qualcosa che volete abbinare ma il suo pantalone c'è e direi che sinceramente è proprio un gran bel completo pantalone palazzo comodissimo poi l'avete visto indossato la Gabri ha anche questo comunque la sua particolarità del bottoncino sul polso sul polso sì il polso è questo sì sì sullo spacchettino del polso ovvio che resta nella parte esterna vedete si vede bene si si ha ok ancora con la collanina già che sei qui la collana fantastica anche questa vedete come come è luminosa e come sta bene su questo completo che comunque è un bel blu notte e lo andate così a schiarire con un accessorio quindi collana 25 euro in tre colori brava tu sul manichino e tu e una qua volete abbinagli adesso si vede sì sì ok volete abbinagli questo giacchino quello che vi ho proposto prima sempre sul blu lo potete fare volete abbinagli un belliciotto chiedete alle ragazze volete abbinagli una un qualsiasi altra giacca un qualsiasi altro capospalla voi chiedete date le misure e loro vi consiglieranno abbiamo da fare gli auguri di buon compleanno cristiana tanti auguri ma tanti auguri io te li ho trovati stamattina alle 8 auguri stai festeggiando beata te beata te dai dai forza 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 che qui si diventa grande e si migliora sempre lo dico si imparano tante belle cose nella vita per cui beh venga anche un altro anno in più no si no come se si potesse scegliere non si può tornare indietro scusa dai però diciamolo in un altro modo ma ci mancherebbe dai forza un po' di vitalità questa è la giacca oggi abbiamo puntato in modo particolare su questi due completi è la giacca che indossava prima c'è anche nel rosso quindi nera blu rosso e beige quattro colori per questa giacca questo completo in questo caso ha anche il suo abito ma c'è anche per gli altri tre colori sul blu c'è stato un problema di bagno di colore per cui la giacca viaggia un po' da sola abbinata al jeans o a qualcos'altro mentre per gli altri colori i pacchettini sono pantalone a sigaretta pantalone a palazzo abitino e la sua giacca anche la stola cuoriciosa assolutamente la stola ha 20 euro ad altri colori che adesso loro vi fanno vedere al modico costo di 20 euro 20 20 20 ecco il completo che voleva vedere indossato vedete dove arriva il taglio della fruta non potete ovviamente portarla senza pantalone è improfondibile esatto ma poi come dice sempre la Gabri tu prendi un completo dopo con quello che hai a casa ne fai altri 4 tu che hai delle bellissime gambe potresti mettere anche un bel pantaloncino in pelle sotto la punica la vedremo arrivare col monopattino la prossima volta chi? proprio strombo moni c'è più una macchina il tuo stivale e cambia completamente ah si assolutamente esatto cioè bisogna anche un po' usare la fantasia perché vedete voi due perché oltre la fantasia siamo anche ecologiche perché la Katia ha detto la prossima volta che vedremo arrivare la Monica la vedremo arrivare col monopattino perché venderà questa macchina e non avrà i soldi per me ha venduto anche l'usato vero su con quella di mio marito di macchina la bici elettrica o qualcosa non ce l'hai a casa? si ma non so se arriva fino a qua a casa mia comunque molto bello lo vogliamo un attimino portare in maniera più pesante non sei allergica? no no perché so che la ma che peccato la Katia attenta ti sia impigliato qualcosa con i braccialetti mi sa si? esatto è andato Cristiana scrive wow bella Monica mi darvi tanto grazie grazie mille con questo e ti consiglia di passare al triciclo al triciclo mi sa che se era avanti così però ci arriva comunque 59 il pantalone 69 quello che è la tunica tunica abito e portato con questo pellicciotto questo gilet smanicato molto carino in questo colore che funge un po' da colore neutro è sicuramente un capo spalla che può andare a a scaldare quello che è questo completo Moni ti sta davvero bene questo completo molto funzionale ne? si gli mancano solo i cuccioli niente copro con la tua macchina sono copremende loro sicuramente vedi poi io sto lì che mi tengo di cosa viene lei cerca di restare serio diciamo che ho caldo perché prima venivo facevo proprio un mambassa di tutto perché ho fatto proprio un cambio degli armadi perché mi sono messa quindi hai tutto Willow nell'armadio tutto vedi in Brescia esattamente grazie prego sono proprio felice prego anche io è con gusto assolutamente no come se vogavi anche prima non è facile comunque trovare capi che soprattutto nelle taglie che non siano sempre i soliti neutri tinta unita e grigio qui svaria tra le fantasie i colori e che quest'anno anche per testa un po' sì Cristiana sì Cristiana scrivimi in privato vuole il completo vuole il completo linea che se me lo ho fatto scrivimi sul privato è certo sì sì assolutamente hai visto come lei ha il numero preferenziale ah come me Stefania chiede Stefania chiede già che indossi il pelo puoi fare un cambio e mettere quello marrone quello marrone marrone dici uno l'altro Stefi cosa dici non c'è più marrone adesso al momento ma faglielo vedere no no il nostro il pellicciotto giusto quello lì la giacca sì per me è quello adesso va a prenderlo al momento marrone è esaurito lo dico un po' come me esaurito per chi lo vorrebbe ma dovrebbe forse rientrare tra una ventina di giorni esatto al momento disponibile è solo il colore che indossa Monica in questo momento così vedete tutto vedete come sta anche lei il pellicciotto bello morbidoso pratico il suo cappuccio il davanzale lo copre vediamo è pronta per andare fino a pogna avete visto che bottoni gioielli sono stati abbinati a questo capo è roba da poco un tocco non da poco assolutamente poi guarda il colore è fantastico anche la chiusura tutto quanto tutto quanto questo poi ha una bella lunghezza e sopra questo capo permette comunque di vedere quello che è l'effetto di questa tunica abito che è molto particolare molto sono certissima vi ho già detto Gabriele che questo concreto sarebbe piaciuto a tutte voi perché si toglie un po' dal solito bisogna cambiare bisogna non avere sempre lo stesso stile perché ci rende più dinamiche ci fa partire la giornata diversamente quindi provate un po' tutte le linee la tipologia non state sempre sulle solite cose perché questo vi aiuta sicuramente ad arricchire perché io ad esempio la mattina quando apro l'armadio c'è qualcuno che mai lo prepara la sera io a volte lo faccio però mi piace anche cambiare questa giacca la porto con quest'altro questo pantalone lo mescolo con questo qui insomma fate tanti altri completi che non sempre gli stessi Simona scrive che vorrebbe vedere l'armadio di Monica mandagli qualche foto assolutamente stavo dicendo prima prima arrivavo facevo un mambassa di tutto perché avevo nell'armadio tantissime cose che non mettevo non mi piacevano più perché tante volte è vero prendi dici sta bene però magari non lo si prova e addosso poi fa tutto un altro effetto bisogna sempre provarle è vero sono d'accordo e allora ne ho preso ho ripulito tutto il mio armadio sono venuta qua ho rifatto completamente perché ho trovato cose di gradimento sorriso completo perché quando poi ci si guarda allo specchio e ci si vede belle ci si sente bene cambia totalmente anche l'espressione del viso assolutamente questo ve lo garantisco ma al cento per cento perché quando una persona sta bene a indossare anche colori che prima avrei detto che non avrei mai indossato tipo un marrone che dicevo no assolutamente non indosserò mai mi piace sono tutti belli i colori bisogna saperli poi abbinare giusti fare il richiamo e ti diventa facile portarli esatto sono tutti belli quindi e viva la nostra monica con il bordo perché c'era tuo figlio di là che portava dentro io di qua che portavo fuori sì sono da filmare sì perché lei poi becca sempre il giorno che viene su Ale a portare le cose nuove no cioè ha proprio la calamità perché sarà cancro e cancro quindi ci si ci si ricordate le taglie gentilmente dal dietro la regia tutte le taglie partono dalla 40 ma la Gabriele non è niente davvero ma che stress Gabriele quasi quasi mollo la seduta io ma non lo so non è niente di meglio a fare vai fuori a conoscere gente no non so niente sta lì a guardare noi l'ultimo cambio così io finisco proprio questi due e poi siamo abbastanza regolari con l'orario sì sulle tre qualche minuto perfetto comunque stavamo dicendo che tutto ciò che vedete che ha questo cuoricino è la produzione made in Brescia e va dalla taglia 40 alla 54 non ci stancheremo mai di dirvelo ok tessuti sempre ricercati perché siamo continuamente costantemente la ricerca di fornitori che abbiano dei tessuti stretch per avere il comfort su qualsiasi tipo di capo anche quello più stiloso quindi tanta roba come dico sempre arriviamo al completo che indosso con la gonna taglia 54 che costa 59 euro come la taglia 40 quindi pensate anche a a quanto desideriamo voler far star bene anche le nostre morbidose e abbiamo cercato di mantenere lo stesso prezzo per tutte taglia 54 esiste è qui è qui in negozio venite a prenderla perché esiste e taglia 54 di questa magnifica blusa con questa onda color tabacco in questo caso ho abbinato un bijou che stava veramente bene che sono comunque in tono e la sua giacca nella taglia 54 e veste molto bene anche perché è un'ecopelle che ha comunque quel minimo di elasticità proprio per rendervi confortevoli tutte le giacche stretch sappiate che il tessuto stretch rende una giacca un cardigan non sapete di averla indossata questa è la bellezza di questi tessuti e chi li ha provati e chi li sta portando e chi li consiglia sappiate che lo fa veramente perché ci ha messo ci ha messo il naso ci ha provato ha detto cavoli questi tessuti sono veramente così e la maggior parte dei ringraziamenti che mi fate quando mi iscrivete sono questi cioè grazie per aver trovato dei tessuti per poter lavorare nelle taglie alte nelle morbidose e per dare stile anche a noi e questa è la mia più grande soddisfazione anche perché ormai di aziende che lavorano sulle taglie alte ce ne sono poche anzi sempre di meno e noi invece siamo qui siamo qui presenti e per voi ricordiamo anche dove qui gentilmente siamo a Villa Caccina in provincia di Brescia via Antonio Bernocchi Bernocchi mi deriva Bertocchi sì invece no però quasi cero eh dai esatto e comunque uscite all'ospitaletto di solito le indirizzate così no? sì tangenziale e per la Valtrompia ci arrivate sicuramente e ricordiamo invece e ricordiamo invece per le tiktocchine che la diretta non rimane fissata se la vogliono vedere indifferita di passare su facebook sulla pagina Gabriesse Abbigliamento Donna oppure su youtube alla pagina cioè al nome Gabriesse Abbigliamento Topolini dove vedete là esatto Topolini Topoline Topoline detto tutto avete ogni tipo di informazione se vi è sfuggito qualcosa scrivete ai numeri whatsapp perché loro vi aiutano esatto anche in questa cosa quindi state serenissime per l'acquisto state serene per i capi perché dietro ci siamo noi di prima persona a rispondere per ogni cosa per cui veramente sedetevi decidete cosa fare decidete cosa acquistare decidete come essere belle decidete come migliorarvi e migliorare il vostro aspetto ok? l'ultimo completo poi guardiamo la nostra Monica sempre super bella questo è il sigaretta in bengalina jeans nera vedete questo effetto viene praticamente lavorato con due filati ve la faccio vedere all'interno sempre di viscosa stiamo parlando vedete il chiaro all'interno e lo scuro all'esterno sono questi due due filati hanno dato questo aspetto sportivo a questa bengalina jeans che per noi è nuova il primo anno che la utilizziamo e ci sarà sicuramente anche in primavera perché ha avuto un successone quindi pantalone a sigaretta 59 euro abbiamo questa fantastica camicia scusate che appoggio un attimo questa che l'abbiamo nel tortora nel nero nel blu e nel bianco bianco forse è leggermente disassortita se non ricordo male anche giù da noi deve essere disassortita questa è a 69 euro perché comunque ha un consumo di tessuto vedete che bella lunga lo spacchetto centrale anche questa sul davanti sono delle finte allacciature sono solo bottoni perché si infila perché dietro ha l'elastico quindi anche questa super comoda 59 euro anche per lo zampetta e col filo contrasto scusa 69 euro lo zampetta col filo contrasto nel beige in questo caso e la nostra giacca che va a completare sui due pantaloni naturalmente la bengalina jeans blu e la bengalina jeans nera sta morendo dal caldo sono state elaborate solo queste due con i fili contrasto con il filo contrasto le altre tono su tono però bellissima portata anche con questa stola a 20 euro adesso la nostra Monica Claudia chiede se farete anche gli sbragati lo dico zillo dai sono già pronti non ho fatto in tempo stamattina a caricarli perché sono arrivati all'ultimo minuto e dovevamo apprezzarli tutti ci sono già quindi mercoledì una meraviglia mercoledì arriva tutto mercoledì scopriremo i colori solo mercoledì state lì e state con noi che vi dico sempre tutte le settimane arriva qualcosa di nuovo poi magari c'è la settimana dove ci si inceppa un attimo per questione di di consegne però c'è sempre qualcosa di state connesse esatto guardate che meraviglia questo tessuto questo tessuto è uno spalmato è un jersey e comunque anche questo elasticizzato più sostenuto sì 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 ma lo spalmato va a lavorare su questo disegno su questo soggetto lavorando con che cosa con l'opaco e il lucido e quindi dà una particolarità estrema a questo tessuto questo è già arrivato l'animalier arriva domani perché l'ha spedito oggi quindi dovrebbe arrivare domani andiamo al ritaglio con tutto con le giacche con le gonne e arriva una terza fantasia che non ve la dico e non la sappiamo e noi la sappiamo e non chiedetecelo no 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 perché è particolare anche quella vuoi saperla te lo diciamo dopo te lo diciamo dopo ok cucciolona solo perché sei tu una cucciolona ecco io adesso si potrebbe mettere anche una cinturina noi l'abbiamo fatto per far vedere quanto è lunga la blusa ok portate la gonna anche con lo stivale va tantissimo la lunghezza portata con lo stivale questo inverno e per chi non ama le bluse corte questa è lunga la portate col pantalone la portate con questa gonda la fate anche uscire un po' dalla giacca che diventa un completo sicuramente più dinamico ed è comodissima ma bello è lo scollo la particolarità dello scollo vedete non è semplice a V ma questo piccolo particolare applicato in questo modo la resa un po' diversa non la solita blusa ma anche lo staccetto stesso quindi anche questa fate che è tutto jersey ragazzi quindi comodità all'ennesima potenza qua perché sinceramente però questo bicolore che è il bicolore è un'altra delle tendenze di questa stagione per cui abbiamo inserito una blusa anche in questo modo e come diceva Gabriele l'altra volta è già stato testato il lavaggio già lavata io quindi portata a casa è già lavata tranquille certo 60 gradi lo sappiamo sono sempre i soliti piccoli accorgimenti già lavata io dove ho dubbi ragazze io lavo veramente faccio i lavaggi brevi ovviamente per vedere un attimino perché tanto se c'è qualche problema non si vede anche dei lavaggi brevi però effettivamente non ha dato nessun tipo di se ho i dubbi io posso portarti un po' dei miei se ho i dubbi io posso portarti un po' dei miei tutto che lo provo ti preoccupare guarda lo faccio veramente volentieri rimettiamo la giacca a Monica per farvi vedere dove arriva la giacca dove arriva la blusa perché trovo che questo sia veramente un ottimo completo perché resta pratico per via della blusa sotto che è comunque svasata e quindi non va a segnare assolutamente il corpo la giacchettina è un pochino più corta se a voi piace portata così altrimenti la potete anche alzare o annodare con questo piccolo spacchetto mettere una cinturina infilare e rimborsare portatela come volete questa sta molto bene anche col pantalone chiedono se è elasticizzato oh che freddo elasticizzato la donna guardate ragazze sono tutti elasticizzati dove abbiamo il tessuto fermo siamo noi per prima di dirlo e cerchiamo di dare un'altra vestibilità ovviamente però sono tutti elasticizzati fagli vedere la giacca come del resto lo è questa guardate tutte perché non si sente rumore perché sono stati con la bengalina invece fa scloc scloc si lo fanno la gabbia il suo giusto di me si si franca chiede se la blusa bicolore c'è anche altro sono altre due giusto ci sono due fantasie una ce l'ha nello stand se vuoi farla vedere l'hai fatta vedere prima quella di una è questa con il tasto immaculato e l'altra è quella lì e poi c'è la barocco si sono tre non so dove l'avete l'avete però eccola là dovrebbe essere giusto giusto quella poi in caso franca scrivimi che io ti giro le foto sono una più bella dell'altra per cui guardate guardate anche così che bella che diventa vedete questo pannello nero l'abbiamo messo in questa posizione apposta perché va a spezzare quello che magari poteva essere la solita blusa e va a renderla sicuramente molto più dinamica e il tutto nero in questa zona dove magari le più morbidose preferiscono comunque far sì che sempre di più snella esatto nascondere nascondere sì 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 noi del resto dobbiamo imparare solo a valorizzare il nostro fisico qualsiasi taglia abbiamo qualsiasi perché a volte ci sono anche le magroline che non sanno esattamente come fare ok non è detto che magra è sinonimo per forza di bellezza con tutto bisogna imparare a valorizzarsi questo è il nostro compito monica che taglia di giacca hai allora 48 sì 48 ecco della maglia e la gonna vedete anche la 46 per me sì ti è grande sì sì anche in vita monica la taglia in meno sicuro la giacca no quella va bene ma perché ho ma ti dirò io proverei anche la taglia in meno perché mi sembra che sia bella comoda anche dietro nel senso cioè qua sul fianco eccetera dipende da come ti piace se ti piace più morbida o se ti piace più asciutta no io di solito sopra teno un pochino più morbido il sotto no mi piace questo è un'altra informazione importante che voi dovete dare alle ragazze alle mie due topoline se vi piace morbida o inciucciata come volete il vestito il tagliore che avete ordinato io lo preferisco asciutto aderente slim oppure l'altra lo preferisco che sia comodo non amo le cose a corpo questo dovete dirlo e sarete conto che dite ci proviamo abbiamo fatto abbastanza per oggi sì vi è piaciuto tutto siete state in nostra compagnia come noi della vostra compagnia che è sempre molto piacevole e ci rivedremo presto e con le novità perché poi ovviamente è mercoledì qualcosa di nuovo anche perché adesso le abbiamo fatto ridrizzare le antenne sì arrivano i messaggi ma non le guardo neanche neanche vi piace vi metto assolutamente perché ci sono i bracciali ragazzi mi sono dimenticata di farvi vedere che è uno spettacolo anche questo 20 euro sai che non lo so questo mi sfugge mi sfugge scusate perché sì 20 euro ed è molto particolare molto bello che fa addirittura quasi da polsino dalla sua cuore sì questo è fantastico l'abbiamo messo dappertutto nella stampa della blusa c'è il cuore c'è un po' dappertutto quest'anno il cuore quindi vogliamoci bene questo significa abbiamo Ros che chiede ciao una sette ottavi crepe bordeaux o verde verrà tagliata? al momento non abbiamo non abbiamo la giacca lunga stiamo lavorando su altre cose però ripeto la stagione è appena iniziata siamo a metà di settembre ragazzi andare a dicembre hai voglia di farne di modelli quindi in base anche un po' alle richieste che avremo si possono sempre riprendere delle vestibilità di alcune giacche che abbiamo venduto molto bene da lì lavorare il modello nuovo viene pronto subito quello non si può fare si può fare tutto al momento in produzione quando dico al momento no è perché in produzione c'è altro ci starebbe bene anche un bel pantapareo colori invernali sentite la Monica come è felice dai balla si come che fai? le faremo il caschetto per il monopattino mettiamo su Gabriese ti mettiamo lo sponsor Gabriese sul monopattino anche su un casco voglio la maglietta con scritto Gabriese e con il cuore naturalmente davanti ecco allora facciamo ma scriviamo anche il nome il numero di telefono visto che mia mamma a me è lo sponsor sulla moto non me lo fa magari sul monopattino si perché no esatto se vuole anche la macchina e adesso poi la macchina la vendi cioè per forza deve vendere perché c'è il monopattino comunque ragazzi a parte gli scherzi lasciateci raccontare qualcosa durante la diretta che ci fa così piacere stare con tutte voi ci fa veramente tanto piacere stare in vostra compagnia è stata un'ora e passa un'ora e mezza non lo so piacevolissima e vi abbiamo presentato ancora qualche i nostri capi che comunque ecco sono stati riassortiti per cui li abbiamo ripresentati e ci vediamo prossimamente mercoledì vediamo mercoledì mercoledì con altri look e tutto quanto ok va bene noi vi salutiamo io e Monica adesso andiamo a fare altre cose esatto e un bacio a tutte quante a voi splendide creature e imparate a volervi bene e visto che l'idea del pantapare a voi è piaciuta ah sì lo immaginavo ciao palì ciao palì ciao a tutte ciao e un bacio grande con tanto tanto affetto ciao